Il distanziamento sui treni in Calabria è stato annullato a partire dallo scorso 25 luglio, giorno successivo, all'emanazione dell'ultima ordinanza in materia di anticovid dalla governatrice Iole Santelli, nella quale è scritto che sono garantiti tutti i collegamenti sul territorio regionale su gomma e ferrovia, nel testo che in sostanza deroga l'aspetto del distanziamento sociale, ferme restando le misure di prevenzione di igiene e comportamentali già fissate nelle vigenti ordinanze regionali e dalla normativa nazionale. Si puntualizza che nel territorio regionale sono garantiti tutti i collegamenti attraverso il ripristino del 100% dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma. Per quanto riguarda il servizio ferroviario regionale, la programmazione dei servizi aumenta rispetto alla programmazione degli stessi attuata fino al 14 giugno 2020, con un valore incrementale del 100% dei servizi effettuati nel periodo preemergenza, al fine di soddisfare l'ammissibilità e le esigenze di spostamento dei lavoratori negli orari di maggior afflusso e dell'utenza con riferimento alle attività consentite nelle disposizioni vigenti. La rimodulazione dell'offerta dei servizi ferroviari e automobilistici verrà contestualmente monitorata durante il periodo di attuazione, allo scopo di garantire adeguati livelli di servizio proporzionati alla domanda, anche attesa, e alle necessità di accessibilità dei diversi territori, nonché di adeguare immediatamente la programmazione per il servizio stesso in caso di necessità. Ora, dopo le ultime disposizioni del governo in tema di mantenimento della mascherina negli ambienti pubblici chiusi all'esterno, dalla cittadella fanno sapere di valutare la nuova situazione, anche in coordinamento con le altre regioni. Insomma, l'argomento sarà al centro di una nuova riunione della conferenza Stato-Regioni, chiamata ad assumere una posizione univoca sulla questione che riguarda tutti, al di là dei singoli confini territoriali.